Oh, ce la posso fare? P***a! P***a! Penso di non aver mai fatto il caffè in un posto così bello E il grande giorno è arrivato! L'amicizia per me è una cosa molto seria E credo che ognuno di noi ha un amico che lo ha sempre messo nei guai Marco, per me è questa tipologia di amico Le scarpe per la salita, eh? Stim, è partito! Quella è la montagna dove dormiremo La tragedia Siamo a metà percorso Io sono stanchissimo E mi sono appena ricordato che mi sono dimenticato le tazzine Per finire di fare il video E soprattutto per bere il caffè domani mattina E oggi pomeriggio appena arriviamo No, è incredibile Oddio, sono a pezzi In discesa Mai frenare Sono pazzuto con il freno avanti Ed in salita Bisogna sempre guardare Due, tre metri avanti Perché dove va lo sguardo Va la ruota della mountain bike Questo è il panorama E dove siamo arrivati Dormiremo Sì, su Si scudeva del fatto di dormire o non dormire qua Perché un po' mi fa cagare sotto Praticamente si è scaricata la bicicletta La batteria di una delle tre biciclette Siccome Marco è sempre quello più allenato E' colpa sua se siamo qui Allora ha deciso di fare un'opera buona Prendersi la bicicletta scarica E lasciare la sua Come sarà sto? Mi fuggio Il martellese Over 2000 Vai Ah Questo è ancora più rustico Bello Mi fuggio Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un sacco di vento, volevamo cacciare il drone ma non stiamo riuscendo proprio perché c'è molto vento. Si muove tutto, però posto meraviglioso. Dai, ceriamo questa notte e dormiamo. Questi li riempiamo così. Oh, io sono stanchissimo. Pure io per tanto. Ci sono proprio a pezzi, lo stanco a pezzi. Mi fanno male le gambe, la schiena. Situazione attuale, cioè completamente buio pesto, queste sono le nostre ombre. No, vabbè, alla fine è proprio tranquillo dormire qui di notte. Completamente buio. Come avete dormito stanotte? Uno spettacolo. Quante ore avete dormito? Scusate, 5 stalle da 22 minuti, tra notri. Grazie Angio, grazie Marco. Soprattutto Marco. Grazie Marco. Grazie Marco. Grazie Marco. Siamo partiti? Dai. Bella. Non so se si riesce a vedere, ma c'è un bel camoccio lì giù. Si riparte con la discesa. Vorrebbe esserci un paio d'ore. Non siamo riusciti a fare la moca all'alba, perché non riusciamo a vedere l'alba. Purtroppo la montagna è anche questa. Basta, basta. Di necessità virtuosa. Ahhhh. L'ultimo caffè prima di ripartare. Dio. Andatevano a cagare tutte e due. Grazie. Grazie a tutti.